Rapina in un negozio di Piazza Mazzini a Padova. In pieno pomeriggio uno sconosciuto armato di coltello è entrato in un'erboristeria e ha minacciato la titolare. Si è fatto consegnare il denaro presente in cassa, poi si è dileguato. Il bottino è di 150 euro, ma più che altro è stata la paura che ha segnato la commerciante. Un altro colpo uguale era avvenuto poco tempo fa. La signora ha chiamato il 113 e sono scattate le ricerche del balordo.